Tra musica, cultura, sport, natura e animazione saranno circa 200 gli eventi in programma il 20 giugno per la terza edizione della Notte Bianca del Comune di Fiumicino, presentata questa mattina nel Palazzo Comunale dal Sindaco Esterino Montino, il Vice Sindaco Anselmi e il Presidente del Consiglio Michela Califano. Sarà un grande successo, una grande nottata, giornata. Dalla mattina arriveremo fino alla notte fonda, spero tutta la notte, anche perché è dedicata la notte. Ci saranno anche molte novità, novità di visite un po' particolari, di aree tipiche che però erano state dimenticate nel corso degli anni e che invece riscopriremo. Naturalmente ritorneremo sull'area archeologica, navicheremo in Tevere, faremo il chilometro di sport qui a Fiumicino e poi anche sul lungomare di Fregene. Tantissime iniziative di tipo culturale, di feste e ovviamente ricorderemo Pasolini sulla darsena insieme alla RAI e quindi anche con un inedito proprio dell'ultima parte della vita di Pasolini. L'evento, nato con la collaborazione con le Proloco, le associazioni e le società sportive di Fiumicino, che segna l'inizio dell'estate fiumicinese, coinvolgerà tutte le località del comune traianeo, da Maccarese a Fregene, da Fiumicino a Traiatella, sin dalla mattina per poi giungere alla tarda notte. Il 20 giugno sarà infatti possibile visitare i porti imperiali di Claudio e Traiano, la Necropoli di Porto e l'Oasi di Porto. Sul Tevere sarà realizzata la regata Vogalonga Tiberino organizzata dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, come riedizione dell'antica traversata che da circa vent'anni non veniva più svolta. In piazzale Mediterraneo poi sarà allestito un vero e proprio villaggio con stand, aria ludica, spazio concerti e vendita di prodotti a chilometro zero, il tutto nell'ambito del campionato italiano di offshore 3.000 e 5.000. E poi naturalmente tanta animazione, musica, mercatini, auto d'epoca, riedizioni storiche e fuochi d'artificio. Sempre a Fiumicino, largo spazio e dedicato allo sport, nel tratto di lungomare compreso tra la Darsena e via Torre Alessandrina, saranno infatti allestiti campi, tappeti e ring, mentre a Fregene gli appassionati dello sport potranno darsi appuntamento tra via Vodighera e via La Plaia, districandosi tra eventi musicali, intrattenimento per i più piccoli, stand gastronomici e performance artistiche. Tra gli appuntamenti più importanti la Gran Parata intorno alle 23.30 su Viale Castellammare e molto altro ancora. Per conoscere tutti gli eventi in programma per il 20 giugno consultare il sito www.nottebiancafiumicino.com